Il prossimo Bizestile sarà nel 2024, anno che ovviamente già ci disse molto in termini di evocazione, incrociando le dita e tutto quello che possiamo per la sfida della capitale italiana. Nel frattempo accontentiamoci, in senso ironico, del non compleanno che questa idea ha creato ormai già dal 2015 per celebrare in festa Rossini, nella settimana in cui avrebbe compiuto gli anni e in cui tutte le arti e tutte le istituzioni culturali della città e del territorio partecipano facendo la propria parte. Il clou sarà l'appuntamento legato al Tancredi con il Rossini Opera Festival del 27 febbraio e terremo tra l'altro in via escezionale ringraziando dell'ospitalità, ma è una scelta che ha molto a che fare con un'idea di capitale italiana che giocheremo su tutta la provincia e quindi si terrà al Teatro della Fortuna di Fano e anche i giorni in cui da la danza ai racconti, a educational, giri per la città fino a l'importantissimo 28 febbraio affidato in questo caso al Conservatorio Rossini che fa coincidere con questa data storicamente anche l'inizio dell'anno accademico, insomma tutte le arti, tutte le realtà fino anche agli spettacoli per i più piccoli che contribuiscono a festeggiare Rossini. Il miracolo di 16 appuntamenti in 12 giorni non sarebbe potuto accadere senza la collaborazione davvero di tanti soggetti, di tante istituzioni che sono attive per questo non compleanno, insomma. Ormai è diventato un appuntamento fisso e ogni anno è l'occasione per ripensare a Rossini sia nella filologia pura, penso al lavoro incredibile che fa la Fondazione Rossini e Rossini Opera Festival, ma anche attraverso degli sguardi assolutamente distopici ma anche molto divertenti. Penso al debutto dello spettacolo dei Cataclò dedicato a Rossini, penso addirittura a una invenzione di una biografia, di un nuovo compositore per risuonare poi Rossini attraverso dei sintetizzatori elettronici anni Ottanta, quindi davvero un attraversamento e un modo per conoscere Rossini anche quando sembra che ne prendiamo un pochino più le distanze, con un ultimo omaggio da non compleanno a non compleanno, anche un omaggio a Lucio Dalla che appunto avrà il suo compleanno proprio il giorno dopo dell'evento con Peppe Servillo. Quindi davvero 16 eventi, 12 giorni, una grande festa che rianima Pesaro in un momento molto importante perché incorniciamo anche la discussione per questa bella occasione di finalista capitale 2024.